Il primo cittadino di Pescara, Carlo Masci, ha accolto con favore l'ordinanza del presidente Marsiglio che ha inserito il capoluogo adriatico in una zona semi-arancione con limitazione negli spostamenti ma bar e ristoranti che rimangono aperti fino alle 18. Il primo cittadino, Masci, commenta l'ordinanza che da ieri applica tale misura restrittiva non solo a Pescara, anche a Spultore, Francavilla, Almare e Montesilvano, ma non si esclude che l'intera regione possa tornare in fascia arancione a causa dell'aumento dei contagi della variante inglese, soprattutto nell'area metropolitana. In quel caso anche per Pescara scatterebbero restrizioni maggiori. La decisione per quel che riguarda l'Abruzzo verrà presa dalla cabina di regia e se l'ordinanza del ministro sarà pubblicata sabato, la nuova disciplina potrebbe scattare già da domenica. Come ha visto l'ordinanza di Marsiglio? Io l'ho giudicata molto positivamente perché Pescara è una città che attrae persone, quindi un provvedimento che blocca l'afflusso di persone in città da parte dell'area metropolitana secondo me è positivo in questo momento storico. Quando sabato ho emesso il provvedimento sulle scuole di ogni ordine e grado qualcuno ha storto il naso, però evidentemente quel provvedimento era assolutamente indovinato perché poi adesso si scopre che questa variante inglese sta colpendo pericolosamente la zona dell'area metropolitana di Pescara Chieti. Io continuo a raccomandare pulizia, distanziamento e mascherine è soprattutto buonsenso perché questa è una battaglia che si vince insieme. L'ordinanza prevede il divieto di ingresso e di uscita dal comune eccetto che per caso comprovato da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute, ma i bar e i ristoranti resteranno aperti fino alle 18. Se però scatterà l'ordinanza governativa di Arancione per l'intero Abruzzo le cose cambieranno anche a Pescara? Sì, cambieranno perché a quel punto i bar dovranno chiudere e fare soltanto l'asporto. Questo avverrà, presumo, da domenica. Io questa mattina metterò un provvedimento, un'ordinanza che puntualizzerà il discorso dell'impedimento dello stazionamento nelle zone centrali della città e soprattutto non consentirà la sosta fuori dai locali per consumare.